Perchè sei qua oggi Arianna? Perchè spiegate come stanno in sicurezza i bambini! Abbiamo deciso a un certo punto di intraprendere questo percorso dell'insegnamento delle manovre di disostruzione pediatrica anche sui bambini quindi quando andiamo nelle scuole o quando andiamo nei teatri troviamo magari qualche bambino e insegniamo loro le manovre di disostruzione pediatrica perché noi pensiamo che comunque il nostro futuro è un futuro di cambiamento noi vogliamo questo cambio culturale se loro fin da piccoli iniziano a intraprendere la mentalità del soccorso noi siamo sicuri che 5-6 anni insegnando loro le manovre anche loro possono soccorrere magari dei loro compagni dai più piccoli 3-4 anni non insegnano o salvano loro ma magari avvisano la maestra, la mamma o qualche persona più adulta dicendo che c'è un bambino che sta male